Un attentato di matrice anarchica ha mandato in tilt dalle prime ore del mattino di martedì la stazione di Bologna. La circolazione ferroviaria in transito per il nodo felsineo ha registrato forti rallentamenti a causa di ciò. Nessun dubbio sull'origine dolosa delle piamme su cui stanno indagando polizia scientifica, ferroviaria e Vigos. Per il ministro dei trasporti lupi si è trattato di un atto terroristico contro la Tava ma non ci fermeranno. Lo stesso Renzi ha rassicurato gli italiani dicendo di non voler rievocare parole del passato. Tra l'altro i ritardi dei treni ad alta velocità sono tra i 30 e i 60 minuti anche se pian piano la situazione tornerà alla normalità soltanto tra la notte di mercoledì e le prime ore del mattino del giorno sosseguente. Grazie per la visione!